bella ragazzi, benvenuti a tutti, grazie tipo io ho già rotto un timpano ma sta bene perchè comunque lui è giuventino e siamo qui per fare le video reaction di Roma e Juve siamo 3 romanisti contro uno giuventino poi c'è un milanista, poi qua voi non li vedete ma ci sono tutti gli amici di Carlo c'è la curva giù di Dè e niente, vi lasciamo subito al video bando alle ciance e via e speriamo che finisca bene per noi ovviamente intanto sonda solo contro 7 persone ma simpatizzano Roma via il botterare o giro cambia chi che perdi prendo le botte cittadini bella ianta oh dai 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 c'è, dopo 30 secondi regolatevi ora è passato, era capace ma vaffanculo c'è in 33 secondi già rubate e che ha lanciato dopo il corpo già sono più veloce dalla storia da rubate più veloce dalla storia in 33 secondi mi ruba il corio portaci 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 dai ma che cazzo portaci portaci portico 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 me lo si cosa bomba cosa fai ooo ma non lo so ma non lo so si mette a scantare davanti a l'area giocatori che non segui portico il persino sarai c'è ma rarigio 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 ma io voglio cazzo c'è un pallo fuori gioco cazzo iniziale di cuore bello che chieda un sinistro ma che non ha ancora toccato un pallone ma dai ecco lui fuori gioco per me e' un bar della rarcia rarri 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 contatto il disco rarri 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 i ferroni amato tagliela mo che cazzo cazzo a chi piace la maglietta? eh 4-2 eeeh devo dire a porta dai ah lo sai perchè questa la fa finta di gioco è buona ma non lo faccio qua ma non lo faccio qua si gi gi si gi 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 tu nonno con te gi gi occhiooo oddio dai i gani c'è una cosa che faccio una cosa che faccio una cosa che faccio una cosa che faccio ahhh dai 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 il non so che sapevo ma che c'è la mia amica e' la mia amanda preciso mamma mia la bocca e' alla giastro per la bocca ma la piaccia bello non c'è ma non c'è ma non c'è mio io ho la sensazione dove dormiamo in cagna però non lo so non c'è non c'è è già munito cazzo a sta merda ma non c'è a merda a merda a merda si si a casa a merda no a 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